Mela, pesca, pera, ananas, tante le possibili declinazioni del succo di frutta e ancora di più le marche che si trovano sugli scaffali del supermercato. Ne abbiamo messe alla prova alcune grazie ai laboratori dell'Università Bicocca di Milano. Andrea Silla. Cosa c'è di più di 70 di un succo di frutta? Ce ne sono davvero di tutti i tipi, concentrati per concentrati, con la polpa al 100%, insomma c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Messe alla prova l'Università nella vita di tutti i giorni li ha effettivamente testati, ne ha testati i 15 per capire un po' che differenza c'è tra un succo e l'altro. Maurizio Casiraghi e Massimo Labra dell'Università Bicocca. Allora, cominciamo col dire che c'è un elemento fondamentale, indispensabile, che determina la qualità del succo. Certamente la qualità del succo è legata ai suoi principi attivi contenuti all'interno della polpa, quindi vitamine, proteine, sani minerali sono all'interno proprio del succo e della polpa. La percentuale di polpa è certamente l'elemento chiave. Dei 15 che abbiamo analizzato che cosa abbiamo più o meno scoperto? Abbiamo scoperto che nella maggior parte dei casi effettivamente la quantità di polpa dichiarata corrispondeva poi a quello che noi abbiamo trovato con delle tecniche di centrifugazione differenziale. Quindi noi abbiamo precipitato sostanzialmente la polpa per ogni succo di frutta e abbiamo determinato realmente la percentuale di questa in ogni uno dei 15 succhi analizzati. È ovvio che più la percentuale di polpa è elevata, migliore è il succo. Negli unici tre casi in cui la polpa dichiarata non corrispondeva a quella vera, insomma, erano marche non italiane. I nostri succhi di frutta se la sono sempre cavata perché c'era quello che era dichiarato sull'etichetta. Diamo un consiglio però a chi sceglie o chi cerca un succo di frutta particolare, un succo di frutta con proprietà. Beh allora se qualcuno è attento appunto e sta cercando un succo di frutta che abbia quei valori aggiuntivi di flavonoidi contenuti appunto all'interno del succo di frutta è bene sceglierlo in purezza, quindi succhi che abbiano al 100% di polpa. E possibilmente senza additivi. Idealmente sì, additivi, zuccheri chiaramente aumentano il contenuto calorico ma non aggiungono niente sulla qualità di questi prodotti.